ciao a tutti ben trovati nel video odierno andiamo a leggere un articolo che ho pubblicato nei miei canali social il quale contiene e parte da una citazione di un fortune la nota esoterista gallese prima di procedere con la lettura poi col commento dell'articolo in questione un breve richiamo ai miei canali e la pagina su facebook si intitola fosco del nero attualmente è penalizzata non so per quando non so neanche per quali motivo ma attualmente così c'è poi il canale su telegram che parimenti si chiama fosco del nero su facebook abbiamo la il gruppo il cammino del mago ho anche un account su twitter molto più leggero con una programmazione differente molto più importante dei canali social proprio per i motivi di censura e penalizzazione e oscuramento ed intorni e l'iscrizione diretta alla newsletter di un autore di un conferenziere di un divulgatore che apprezzate in modo da saltare per l'appunto tutti i social tutti gli intermediari che vorrebbero decidere loro cosa voi dovete leggere non leggere sapere non sapere e quindi come dovreste vivere cosa dovreste pensare questa è una manipolazione subdola perché andiamo oltre la violenza diretta è una violenza indiretta ma è sempre una violenza è sempre una manipolazione è un sopruso ovviamente chi gradisce iscriversi alla mia newsletter può andare in uno dei miei siti per esempio su bellezza amore gioia e utilizzare il form discrezione ricevendo peraltro in omaggio anche il mio libro lascia che sangue in formato elettronico detto ciò andiamo a leggere il posto e poi lo commentiamo partiamo con una citazione di un fortune una che se ne intendeva parecchio di lavoro sui piani energetico sottili inizio citazione rendetevi conto che usando la nostra conoscenza del potere mentale nella lotta a favore di ciò che riteniamo giusto non ci affidiamo soltanto alle nostre risorse ma trasformiamo noi stessi nei canali per le forze spirituali provenienti da un piano superiore e dirette da una più alta saggezza fine citazione il significato di tale brano è piuttosto chiaro ma vale la pena evidenziare ulteriormente coloro i quali si rendono disponibili per un certo tipo di energia luminosa vengono inevitabilmente influenzati da quell'energia la quale scorrerà attraverso il loro canale sempre di più naturalmente nella misura in cui tali persone sono pronte per rendersi canali cosa diceva Gesù il padre darà lo spirito santo a coloro che glielo chiederanno il principio vale per i poteri oscuri e vale per i poteri luminosi questo il motivo per cui chi si associa a certe entità basse invecchiando riflette anche nel volto i segni di quel passaggio viceversa l'invecchiamento è assai gentile anche nell'aspetto con coloro che si sono associati entità ed energie superiori guardate negli occhi un soros un gates o un rockefeller e poi guardate negli occhi un oscio uno yogananda o un ananda moima e avrete immediato riscontro di quello che ho appena scritto ora se ciò sarà così tanto visibile nel corpo fisico che ci impiega molto tempo a cristallizzare determinate energie pensate a quale differenza vi saranno i corpi sottili assai più rare fatti e facili da modellare da un lato avrete brutture ed emozioni infere dall'altro lato avrete bellezza e saggezza tenetelo sempre da conto ciò cui vi sottoponete di plasma in modo più forte di quanto probabilmente crediate se vi mettete al servizio dell'alto sarete sostenuti ed educati direttamente dall'alto qua terminava il brano abbastanza semplice però abbastanza intenso e anche abbastanza chiave diretto se posso aggiungere l'elemento di partenza la scelta volontaria delle energie alle quali ci si sottopone e dunque la scelta volontaria di ciò per cui ci si rende canali una persona effettua adesso una scelta di andare in una certa direzione di farsi il canale per certe energie con il risultato che quelle energie scorrono in quella persona iniziano a scorrere e il canale diventa via via più forte questo vuol dire non solo che se io mi faccio canale per le energie per energie per vibrazioni quali la luce la bellezza l'amore la compassione la saggezza rafforzo in me tali energie e non solo in me anche nel cosmo intero con un effetto abbastanza ridotto è chiaro perché la singola persona ha un effetto ridotto rispetto al contesto collettivo però l'effetto c'è anche a livello collettivo ma soprattutto come è chiaro a livello individuale quindi non solo rafforzo quelle energie ma addirittura divengo un servo di quelle energie divengo un servo di quel tipo di canale quindi sarò sempre più diretto e ispirato dall'alto d'altronde sono io stesso che mi sono messo al servizio di quelle energie ho fatto la scelta di base il risultato è che verrà utilizzato come servitore sarò sempre più diretto questa scelta dell'orientamento e dell'essere poi diretti da certe energie quelle che si sono scelte vale per l'alto ma vale anche per il basso questo significa che coloro i quali si sono fatti i canali viceversa per le energie infere e per i piani oscuri degli oscuri non solo rafforzeranno un'energia bassa in loro la violenza la menzogna la perversione l'inganno ma saranno sempre più dirette da quelle stesse energie o ancora più precisamente dalle entità che stanno dietro quelle energie che le utilizzano per le loro agende luminose oppure oscure che siano una volta che si è imboccato un certo sentiero oscuro in questo caso è molto difficile tornare indietro pare anche al contrario una volta che si è imboccato il sentiero della luce è molto difficile tornare indietro e anzi si arriva a un certo punto che è un punto di non ritorno in cui ci si è messi talmente tanto al servizio della luce che ormai si fa parte di quella schiera è come fa parte di un esercito a quel punto la scelta ormai è irrevocabile nell'articolo scrivo una cosa interessante evidenziando che gli effetti di questa scelta non agiscono solo a livello come dire invisibile nella psiche nell'anima delle persone ma anche a livello visivo fattivo corporale anche perché sappiamo benissimo che il corpo non ci mostra altro che la cristallizzazione delle nostre energie interiori le malattie stesse rappresentano una cristina una cristallizzazione delle di certe disarmonie in relative aree energetiche se vi è una disarmonia energetica prolungata nel tempo prima o poi si avrà una cristallizzazione fisica solo questo nel tempo ora nell'articolo evidenziavo due cose nella prima invitavo i lettori a guardare negli occhi certi personaggi occhi malefici vitrei che si vede che hanno qualcosa dietro in questo caso qualcosa di infero e poi invitavo a guardare negli occhi le fotografie di alcuni maestri noti Yogananda, Osha, Nandamonma ma lo stesso discorso si potrebbe fare per tanti altri maestri senza citarli tutti la seconda cosa che evidenziavo è che se vi è una cristallizzazione a livello fisico in questo caso negli occhi da cui traspare un qualcosa di interiore pensate che cambiamento interiore c'è stato nelle vite di personaggi che hanno dedicato l'intera loro vita alla luce o l'intera loro vita alle tenebre se addirittura vi è un cambiamento esteriore a livello di modifica di cristallizzazione figuratevi che cambiamento che trasmutazione interiore c'è stata sia per chi ha seguito il sentiero distorso della luce sia per chi ha seguito la via della mano sinistra delle tenebre dell'inconsapevolezza un'altra cosa da evidenziare e da tenere sempre ben presente è che noi in realtà ma siamo sempre davanti a un bivio sempre in qualunque nostra scelta anche quando andiamo a fare la spesa anzi quella non è una scelta affatto trascurabile perché nel fare la spesa compro dei cibi che poi divengono il mio corpo compro dei cibi che hanno non solo valori introdizionali ma anche certe energie certe vibrazioni che poi divengono parte di me e che dunque andranno a modificare il mio punto attrattivo il mio punto vibrazionale di fondo quindi non è una scelta così tanto trascurabile il fallo a spesa ma questo vale per qualunque cosa uno esce di casa va a vedere un film al cinema che fin guarda anche questo è un bivio siamo sempre davanti un bivio è bene sempre tenerlo presente anche se il bivio principale è quello della scelta volontaria di dove orientare se stessi verso quali energie verso la luce verso le tenebre alla fine le due direzioni sono queste le altre sono variazioni sul tema oppure sono alternanti oppure nel caso di qualcuno ci può essere un alternante in realtà nel caso di quasi tutti c'è un'alternanza a volte luce a volte tenebre nel caso di qualcuno spesso luce nel caso di qualcuno spesso tenebre nel caso di coloro che portano avanti un percorso consapevole la luce diviene prevalente e come dicevo prima a un certo punto non rimane altro che quel sentiero che ormai sarà stato imboccato in modo definitivo per dire così con tutte le conseguenze del caso anche negli occhi anche nel corpo anche nell'invecchiamento il modo in cui si invecchia è grandemente rivelatore delle energie interiori che ci sono dentro la persona andate a vedere accendete la tv e andate a vedere personaggi televisivi italiani specialmente quelli storici diciamo così quelli che sono in tv da decenni alcuni sono veri e propri cadaveri ambulanti che infatti mi sorprende che ancora circolino in televisione perché sono la prova approvata della direzione della bruttezza interiore sono lì perché forse chi li mette lì non si rende conto che quei personaggi stanno testimoniando qualcosa e forse sono lì perché hanno eseguito gli ordini quindi spetta loro il premio di continuare la carriera di avere successo apparenti chiaro successo soldi quello che è altri personaggi invece persino personaggi famosi anche personaggi famosi non necessariamente i maestri invecchiano molto bene questo vi dice con con precisione praticamente millimetrica che energia hanno coltivato nel corso degli anni e decenni dell'entera loro vita energie le quali si rivelano poi nel corpo nello sguardo la saggezza popolare dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima e in ciò ha ragione dagli occhi si vede tanto e si vede soprattutto quello che le persone hanno coltivato nel corso del loro tempo alla fine il nostro mondo interiore è una specie di giardino quello che coltiviamo che non coltiviamo è la nostra scelta va bene il video termina qua vi ringrazio per l'attenzione vi raccomando ancora l'iscrizione alla newsletter per rimanere in contatto con il mio lavoro e con le mie varie iniziative per esempio adesso ho in corso sto programmando un seminario online ma anche un viaggio spirituale per la prossima estate se ne riesco a farlo quindi per rimanere aggiornati con le mie varie attività di vario tipo dal vivo oppure online iscrivetevi alla mia newsletter e così vi saltate tutti i social e le loro manipolazioni un abbraccio a tutti e buone cose per tutti grazie 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 grazie